Eccoci in compagnia del mister Simone Inzaghi. Mister, un derby ricco di emozioni, intenso, combattuto. Come ci si aspetta da un derby? Le chiedo una sua prima reazione e un suo commento sulla partita. Ma io penso che sicuramente avremmo meritato di più. Però insomma, in questo momento è così, perché abbiamo avuto occasioni chiare e importanti. Quindi secondo me non abbiamo approcciato bene i primi 15-20 minuti. Poi abbiamo fatto, secondo me, un'ottima gara a ritmi elevati. Ci è mancato quel pizzico di cinismo in più che ci avrebbe permesso di portare a casa il risultato pieno. Prossima domanda da te, Marco, da studio. Buonasera, mister. Complimenti per la gara di questa sera. Ciao, Marco. Anche questa sera, secondo me, l'Inter ha fatto un'ottima prestazione. Dicevamo qui in studio che per quello che si è visto questa sera i sette punti che ci sono di svantaggio dal Milan non si spiega, non si vedono. Nel senso che per la qualità che ha espresso l'Inter secondo me non ci stanno. Ho visto anche oggi un ulteriore step che ha fatto la squadra anche dal punto di vista della compattezza, di non aver concesso quasi niente se non nei minuti finali al Milan. Forse manca, come diceva lei, solo un pizzico di cinismo in più in certi frangenti della gara. Sì, penso che sia giusta la tua disamina. Io penso che nelle ultime sei partite abbiamo fatto quattro vittorie e due pareggi. Due pareggi sono stati con la Juventus e il Milan e sicuramente avremo meritato di più. Però in questo momento va così, dobbiamo lavorare ancora di più. Però, come ho detto prima, questa partita ci dà consapevolezza e sappiamo che ne mancano tanto. Alla ripresa avremo due partite importantissime contro Napoli e Shakhtar e dovremo cercare di recuperare forza, energie e sperando soprattutto di non aver perso giocatori in questa partita perché qualcuno è uscito dal campo acciaccato. Mister, abbiamo un'altra da studio. Fernando, vai con la tua domanda. Sì, io al mister volevo fare i complimenti per la prestazione e comunque, mister, diciamo che le partite da giocare con le big adesso sono due, no? C'è il Napoli e la Roma e nel complesso delle gare con le big abbiamo sempre dimostrato di essere superiori dal punto di vista del gioco. Poi con gli episodi non è arrivato il risultato. Ecco, credo che questo sia comunque un aspetto positivo da portare a casa. Sì, penso di sì. Dobbiamo essere bravi a far girare gli episodi a nostro favore. quindi dobbiamo fare ancora di più, continuando a credere nel lavoro che si fa, che lo stiamo facendo bene. Siamo a buon punto in Champions. In campionato stiamo avendo un buon cammino, però abbiamo trovato due squadre che sono state pressoché perfette fino ad ora, ma noi dobbiamo fare la corsa su quelle due, sicuramente. Mister, in chiusura, so che è un messaggio molto importante da lanciare. Sì, mandiamo subito un sms al 45521, entra a far parte della squadra Ayrge per vincere le partite contro il cancro. Grazie. Grazie mille mister. Ciao, buona serata a voi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti